Passeggiare. È lo spirito giusto. Hai l'auricolare che ti ho dato? Sì! È praticamente invisibile. Allora perché sei tornato alla Chimera? Non l'ho fatto. Era lui. Quindi ha fatto scappare la Resistenza? Onestamente, non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il bestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi... Oh, giusto. Credo di aver trovato qualcosa. È parecchio stretto. Attenta alla testa. Aspetta. Ti aiuto. Grazie. No, ce la faccio. C'è una radura più avanti. L'ingresso dovrebbe essere lì. Ok. Quindi, Jarvis, chi aspetto ha? Come un vecchio hard disk del 1998. Ok, altra domanda. Chi aspetto ha un hard disk del 1998? Oddio. Wow. Finalmente. Vuol dire che siamo vicini. Cavolo. È sigillata. Guardate un'unità di contenimento. Dottor Banner, cosa faccio? Corri. Cosa? Corri! 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 Si mette male, molto male. Merda. Arrenditi subito. Sei stato avvertito. Ci sono bianchi e i ame dappertutto. Come hanno fatto ad arrivare così velocemente? Sì. 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 Grazie a tutti. Sei stato tu? Spero... Proprio di sì. Spero che tu abbia portato dei vestiti di ricambio. Ah, vedo dal tuo silenzio che non ti fa ridere. D'accordo, credo che neanche a Bruce piacciono le mie battute. No, Bruce! Ok, ok. Non menzionerò il... Tizio con gli occhiali. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh cavoli, la I.M. non era appena arrivata. Si sono stabiliti qui. Dobbiamo trovare Jarvis e andarcene. Grazie a tutti. 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 Lascia che ti aiuti, Bruce. Non è troppo tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Willi torturavano... Hulk... Adesso... Distruggi il laboratorio. Spacca! Bloccate, Hulk! Hai visto la verità, Banner. Sei... Una vita migliore. Possiamo salvare gli romani dal tuo destino. Loro vogliono una cura. Sta mentendo, non sta salvando nessuno! Non volevo arrivare a questo. Spacca! 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 Spargo! Alziamo il dito! Se non puoi fermare Urk, Allora lo farò io. Devo farlo. Vattene da lì! Corri! Hulk! Hulk! Incredibile. L'archivio. Questo deve essere l'ingresso. Hulk, credo di aver trovato l'archivio del Signor Stark. Cercherò di aprirlo, ok? Sì. Giusto, gli interruttori Forza Kamala Oh oh Alimentazione di me Immagino ora sappiano che sono qui Salve Penedite di non uccidermi Donno zio, ma sembra che mi attenda un altro scontro Tieni duro Kamala Puoi farcela Stai 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 Generatori online. Attivare il sistema principale. Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentarlo. Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentare. Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentare. Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentare. Oh, questo deve essere l'ultimo, vero? Oh, questo deve essere l'ultimo. Oh, questo deve essere l'ultimo. Un mucchio di roba Avengers interessante. No, concentrati Kamala. Devo cercare qualche indizio. Perché mostrare la pirite quando puoi permetterti l'oro? Continua a cercare. Credo che questo appartenesse a Thor. Forse è una leva segreta. Oh, no. Solo una tazza. Il Mark 1! Aveva forse intenzione di tornare a prenderlo. Da Pepper a Tony. So che non dovrei agitarmi proprio ora, ma lo sto facendo! La chitarra di Tony Stark! Il primo scudo di Cap era in mostra alle idee. Non apri un passaggio segreto, vero? Valeva la pena di provarci. Cosa c'è qui? Siete in gran forma, ragazzi. Impossibile. Charvis! Devo solo trovare Ulke e andarmene. Che cos'hai lì, scricciolo? Che ne dici di lasciarlo a me? Non credo proprio. Che peccato. Bentornato nel regno dei vivi. Non hai un bel aspetto. A tutte le unità, trovate la ragazza e non mettetevi in mezzo. C'è qualcosa di sbagliato in te. Qualcosa di diverso. E vanno dentro di te, vero? Il suo morso. Non riesco a fare l'imperazione e non��릴게요. Regent Tuesday Non c'è un tocco di sbagliato. Ma sei un tocco di trash. Non conosco come te. Ho trovato la piantina dell'archivio. Credo di poterti raggiungere. Non vedo l'ora che lei si unisca. Sì, lo senti. Questa è il potere. Qui è dove mi sono evoluto. Non conosco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Mostrami i tuoi segreti. Caso 703. Secondo il nostro agenzia fogale, siamo riusciti con successo a riprodurre perfettamente il gas terrygen. Cosa? No, aspetta. Calmati. Tra un attimo sarà tutto finito. Somministro la cura. Ma che significa? Gli stai facendo male. Ti prego. Ti prego, basta. Basta. Dove sono? Ottimo risultato. Il caso 705 è guarito in modo eccezionale. Verrà monitorato per 24 ore. Congratulazioni. Sei guarito. Impossibile. Andiamocene da qui. Non è sicuro. Sì. Certo. Ah, beh, allora... Sei libera di renderla un po' più... accogliente. Oh, grazie. Sì. Stai bene? È strano. Sei silenziosa. Eh... Sì, non è niente. Ok. Ok. Bene, allora... Sì. Se fosse vero. Scusa, cosa? Eh... La cura... E se funzionasse... Sembra tutto vero, ma... E se potessi tornare normale? Beh, sai... Non... Non funziona così. Beh, li hai visti. Sembra che faccia davvero male, ma... Ma forse ne vale la pena. Kamala... Non sono mai stata accettata. Voglio dire... I supereroi erano il mio mondo e... Credevo che... Se avessi vinto quel concorso di fanfiction, sai, forse tutto sarebbe stato... Non importa. Guardami. Sono un mostro. Oh... Non sei un... Quello che hai fatto... Ehi... Ehi... Quello che hai fatto richiede fegato. È stato stupido... Ma richiede fegato. E... Ben pochi avrebbero potuto farlo. Il bene non è parte di te. Cosa? Cosa? Ehm... Niente... Grazie. La stanza è magnifica. Ok. Ok. O meglio... Ok. Voglio dire... Sì! Ecco... Bene. Sì, grazie. Ok. Vado... A... Fare... Cose. Ok. Bene. Ben fatto, Kamala. Non è stata affatto imbarazzante. Ma ora ho una mia stanza sulla chimera! Sta succedendo davvero! A**** Niente. 어떤odfield? Ehi... Si chci! Sì. Ehi... Lo m'ho��록.. Ehi... Mo'è... Mi ha Me ha un po' Pi t'to ma Mi c'a deloicino! Ai MI Niente!